con tremolada perché intanto buonasera tremolada autore del gol del 2 a 2 partiamo dal rigore Fiorillo era stato bravissimo tu ancora più bravo un po' quasi come ieri Viviani nella Roma no Roma Spa eh no lui lo conosco un portiere che non so dire quanto è bravo è stato bravo perché di solito li guardo aspetto fino alla fine lui è stato bravo freddo fino alla fine non ha mai fatto il passo poi è andata bene perché me la sono ritrovata lì è stato un gol importante sentivamo parlavi con i colleghi un po' il rammarico perché in occasione dell'espulsione di Signorini probabilmente c'è stato ne diamo il probabilmente uno scambio di persone ma sarebbe servito il VAR esatto esatto ed è una cosa il problema della B che ci sono talmente tante partite talmente tanti casi che si spezzerebbe il gioco veramente ogni minuto però la verità è questa il fallo l'ha fatto Favaglia e Signorini non c'entrava sono decisioni che penalizzano in un campionato dove livellato come questo dove ogni dettaglio fa la differenza è un dettaglio importante anche se la partita era finita probabilmente un pizzico di cattivare in più c'è mancata è un 92esimo è brutto Pokeshi cosa vi ha detto? no non c'era perché era squalificato adesso ci avevi parlato esatto sul pullman vediamo cosa ci dice ma mi sa che qualche urlo lo sentiamo ti chiedo le ultime due cose ti chiedo intanto ieri probabilmente un punto a Pescara andava bene a termine del primo tempo non ci credeva più nessuno alla fine siete arrabbiati? no ripeto la Pescara è una squadra che gioca a uno dei migliori calci insieme al nostro penso in questa categoria però sappiamo anche che è una squadra che ti lascia tanto quindi non sono mai finite le partite contro contro Zeeman quindi per come si era messa sì al fine del primo tempo eravamo abbastanza giù per quello che abbiamo fatto nel secondo a un certo punto veramente eravamo padroni del campo sono due punti persi ed è un peccato andiamo indietro di due anni abbondanti Arezzo Ezzolino Capuano in panchina 4-3-1-2 il sistema di gioco Tremolada tra le linee noi dicevamo questo giocatore lo vedremo presto in B e addirittura arrivò la chiamata del Pescara quell'anno sì sì era quell'anno che ero lì per andare a Pescara poi il direttore non ha più voluto beh comunque si era in Serie A quindi era un altro campionato e mi sarebbe piaciuto però vabbè è andata come è andata com'è strisce la truppa di strisce la notizia in campo con Ezzolino Capuano quell'anno lì sono successo di tutti lui veramente ha fatto le peggio scene era il club e il mister era allucinante era un personaggio allucinante